Tu chiamale se vuoi emozioni. Che lo si chiami lockdown o quarantena, comunque tutti ci ha fatto stare in pena. Tante emozioni ci hanno attraversato ed elencarle tutte sarebbe complicato. Le primarie allora rappresentiamo con intraprendenza quelle che Inside Out ha posto in evidenza. La prima, la paura, è quella che ci ha preso quando il mostriciattolo ci ha costretto al tempo sospeso. La suggestione del colore viola a volte si accompagnava ad un nodo in gola. Ci ha fatto compagnia. Anche il disgusto per tutto ciò che ci appariva ingiusto. E il verde, di solito colore della speranza, ha fatto spazio anche a qualche intolleranza. Poi la rabbia ha preso il sopravvento. Quando, in presenza, è stato impossibile l'allenamento. Il rosso dei nostri cuori si è trasformato in fuoco nel comprendere che non si trattava di un gioco. Il rosso dei nostri cuori si è trasformato in fuoco nel comprendere che non si trattava di un gioco. Col passare del tempo la tristezza è arrivata. Gli abbracci ha trasformato in una videochiamata. Tutto col suo velo blu ha ricoperto, portando lacrime a chi ha tanto sofferto. Il rosso dei nostri cuori si è trasformato in fuoco nel comprendere che non si trattava di un gioco. Il rosso dei nostri cuori si è trasformato in fuoco nel comprendere che non si trattava di un gioco. Ma rispetto delle regole, pazienza e caparbietà hanno aperto la strada alla gioia. Ed eccola qua. Gialla, splendente come il sole e sorridente, sta tornando ad abitare nel cuore della gente. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Never give up. Si ritorna in palestra. Basta guardare il mondo dalla finestra. Anche se per l'abbraccio collettivo dovremo ancora attendere, rivedersi sarà un turbine di emozioni da non perdere.